E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Rinascimento per la sua prima sede ufficiale a Benevento e proprio dal capologo Sannita inizia un percorso che tutti speriamo possa portare ad una vita politica diversa, più attenta alla cultura, all'arte e al nostro immenso patrimonio storico. Perché proprio a Benevento? Ecco quello che abbiamo già detto, perché è una splendida città, il suo immenso patrimonio storico e culturale merita di essere valorizzato. Sette stelle è per dire che sono più sette che cinque, quindi se qualcuno si è accontentato di cinque può sapere che sono di posizione molte più stelle, cioè un cielo senza limite di stelle e sette sono la misura che ci sono superiore. Rinascimento è una parola potentemente evocativa e sul piano letterale vuol dire che occorre rinascere da uno stato di morte o di premorte e poi indica anche il momento più alto in cui la creatività umana ha espresso quello che non c'è altrove, non c'è soltanto in Italia, quindi alzare la nostra testa col orgoglio di essere italiani.